ciao a tutti sarà possibile tornare insieme che fosse interessato o interessata ad avere una risposta a questa domanda segue il video nel frattempo iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo termasco e iscriviti al nuovo canale felicità benessere di posto il link descrizione mescoliamo le carte tagliamo un giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere i quattro casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 allora concentrati su questa persona della quale vuoi sapere se sarà possibile tornare insieme questo appare il video preferito partire dopo di che scegli la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perché scelto la carta 1 beh sì è possibile tornare insieme ci sarà un atto di giustizia verso di te che scelto la carta 2 diciamo che hai bisogno per tornare insieme di stabilire una connessione emotiva più forte e poi ci sarà la possibilità di un ritorno che scelto la carta 3 ma la persona un giudizio positivo verso di te quindi le possibilità ci sono si tratta di sfruttare al meglio questo giudizio che scelto la carta 4 molto difficile non impossibile sarà comunque un percorso estremamente lungo e complesso per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale e scriviti al mio nuovo canale felicità benessere di posto il link descrizione ciao a tutti ciao a tutti